Qui accantiamo a Napoli, frate a me, frate a te, frate a te, è arrivato lui, Mimmo Rani. Buonasera prima di tutto a tutta questa stupenda struttura che dà la possibilità a tutti i giovani di affacciarsi a questa finestra napoletana. Bello. Bello, no? Poi frate a me, frate a te, frate a Gio, non c'è un modo più bello di dire da un amico sentirsi chiamare fratello, specialmente in questo mondo pieno di guerre. Sta andando già alla grande questa canzone, vogliamo dire gli autori? Gli autori Mimmo Rani, Tony Aprile e Piero Palumbo. Quindi sono loro gli autori di questo grande pezzo che sta andando, veramente forte. Io cerco sempre di accocciare una squadra, un'equip, un'equip che possa capire quello che io voglio nei testi delle canzoni. Che volte parlare, ecco io canto l'amore in tutte le sue forme e anche l'amicizia è una forma d'amore. Giusto, sì sì, certamente. Vogliamo fare anche un ringraziamento a questo bellissimo ristorante Villa Mirabella? Certo, io questo l'avevo detto prima, ho detto che questa è una bellissima struttura Mirabella e il proprietario a parte la sua accoglienza che ci ha dato a coprire, mi dirò frataccio, che il malamento non è, ma manca buono, è troppo buono, è troppo buono. Niente, auguri veramente tu che gestisci questa trasmissione. Veramente io auguro a tutti di venire qui a Villa Mirabella e che si mangia bene e poi diciamo si spende poco. E questo è importante. E infatti a mangiare, a mangiare buono, perché giustamente a pagare non lo so perché mi ha mai fatto parlare. Giustamente, lo devo dire, è la verità, abbiamo questo apprezzamento, io e lui, capito, è una cosa che lui organizza, organizza pure. Mimmo, tu ne hai provate tante, ma cosa si prova quando un brano appena uscito riceve il successo che sta ricevendo questo brano? Guarda, sembra sempre la prima volta, io mi emoziono a volte, diciamo, no, spesse volte, sempre, voglio dire, mi emoziono sempre perché è come se non riuscissi a portare, diciamo, questa, come dire, questo non è un peso, per l'amor di Dio, l'età ci sta, non sono più un ventenne. Quando sono uscito e c'avevo vent'anni, adesso ne ho molti di più, dico, riuscirò poi ad appagare tutto il pubblico, tutte queste, le serate che verranno, quindi c'è questo timore di non potercela fare, perché giustamente non è che canto solo, io mi muovo, come ben voi sapete, mi muovo molto sulle gambe, faccio palestra, perché amo il mio mestiere e voglio farlo in tutte le, il migliore dei modi, lo voglio fare il migliore dei modi per dare sempre al popolo quello che giustamente ha bisogno, no, diciamo, voglio dare sempre di più al mio popolo, al pubblico che mi ama da tanti anni, no. Allora, è arrivato un momento di gustarci questo favoloso video realizzato da? Regista Marco Cantone. Quindi, tutti a seguire Mimmo Adani e tu conosci il nostro saluto di rito, è questo qua, insieme a me tu ti dai, bravo, uno, due, tre, cantiamo Napoli! Mimmo Adani e tu conosci il nostro canale Quello grande ma chi non è tutto quanto aguarda, 23 carburature ma chi sai chi sarà? E' arrivato Giorgio Pluni o D'Alessio Sarra. O sarà per quella porta mai capito chi è? Io compagno mi ciccina che è cresciuto con me, sta tre anni a pissa a quella che non ne può sapere, Spendono panche di narra, solo per se fare, regge, 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 Che la russa da papis, quanta massa da perus, stirna la garafum, spien ademba insieme a me Adagio Abba da me, abba da me, abba da qui, abba da io Provolò, rovolò Abba da me, abba da me, abba da qui, abba da qui Abba da me, abba da qui, abba da qui, abba da me, abba da me, abba da te, abba da qui, abba da me, abba da qui Abba da me, abba da qui, abba da me, abba da me, abba da me, abba da qui E adagio E ai difficolti S promo Che la russa da papis, quanta massa da perus, stirnare la garafum, spien ademba insieme a me Bratbattola Bratbattola Grazie a tutti Grazie a tutti